Dovrebbe essere la settimana della proclamazione dei consiglieri regionali eletti dopo le ultime elezioni, corte d'appello permettendo. Nel frattempo prende sempre più sostanza il governo Emiliano II, sarà una giunta con almeno 5 donne, 3 in quota PD, il partito che quasi sicuramente farà il pieno di assessori. I due ci sono già, sono il riconfermato Raffaele Piemontese al bilancio e Donato Pentassulli all'agricoltura. Poi c'è il capitolo donne e anche qui il PD pretende che vengano favorite le elette come Anita Mauro di Noia, Deborah Ciliento e la cerignolana Teresa Cicolella. Intanto il dialogo con il Movimento 5 Stelle continua, Emiliano ribadisce la volontà di inserire in giunta rappresentanti grillini, ma il segretario Dem la casa frena, le intese non si fanno sulle postazioni ma su come portare avanti un programma amministrativo. Tornando alla mappa che Emiliano sta disegnando, detto di Piemontese Pentassullia, l'altra casella riempita è quella della sanità con Pierluigi Lopalco, mentre continua il derby tra Gianni Stea e Sebastiano Leo in quota popolari con quest'ultimo in vantaggio.